Car amici di Nevitaglia, oggi siamo sulla neve non solo per provare questo completo saleva, ma della casa abbiamo anche in dotazione uno zaino con airbag realizzato da ABS. Questo sistema permette di salvare moltissime vite in caso di valanga. Lo zaino che abbiamo in prova è uno zaino plastico, per così dire, perché è un 26 litri con doppia tasca. Abbiamo infatti davanti la tasca più piccola per mettere arva, sonde e pala, la tasca più grande invece a contatto con la schiena per tutto il contenuto che serve nello zaino. Sopra abbiamo una tasca felpata, porta maschera, l'aggancio in vita e sul petto. A lato troviamo invece il sistema ABS, è sia sul lato destro che sul lato sinistro. E viene azionato da questa manopola. La manopola è usegetta, contiene una piccola carica di polvere da sparo, polvere esplosiva, che fa scattare il sistema inventato da ABS. Le sacche laterali si gonfiano d'aria e in questo modo ci permette di galleggiare sulla neve in caso di valanga. È infatti molto importante sottolineare questo aspetto, perché il sopravvivere all'interno di una valanga è questione di attimi. Si ha più tempo per sopravvivere, più minuti di vita a disposizione in attesa dei soccorsi, più in alto siamo. Infatti lo zaino crea un'area di 170 litri e questa permette di galleggiare sopra i blocchi di neve durante la valanga. Azionando questo sistema quindi si evita di sprofondare all'interno della neve e si ha una chance maggiore per sopravvivere in attesa dei soccorsi. Infatti si conta che se si è più di un metro sotto la neve, i soccorsi probabilmente non faranno in tempo a trovarvi con le sonde e a scavare tutta la neve che è sopra di voi. Con questo zaino invece durante la caduta della valanga riusciamo a rimanere sopra la neve, a galleggiare e a evitare che la neve ci schiacci gli organi vitali e soprattutto i polmoni. E adesso proviamo ad azionare il sistema ABS. Come vedete in meno di 4 secondi si sono gonfiate tutte le zone dell'ABS. Sono rigide e questo ci permette di rimanere a galla durante una valanga e sperare che i soccorsi arrivino nel più breve tempo possibile. Lo zaino in questo momento è gonfio Azzaleva vi dà tutte le istruzioni per ripiegare e sgonfiare il sistema di airbag e ovviamente dopo questo utilizzo si dovrà sostituire la maniglia con la carica esplosiva e la bombola che fa gonfiare tutto il sistema. Per noi questo zaino è una grandissima innovazione che porta sicurezza ai livelli inimmaginabili fino a 10 anni fa per i fuori pista. Quindi viene promosso a occhi chiusi con 10 in pagella. L'importante però sempre che le condizioni siano le ideali per andare in fuori pista e che si utilizzino tutti gli accorgimenti necessari per praticare questo splendido sport. Grazie a tutti! Grazie a tutti.